Il tema previdenziale è un tema particolarmente delicato perché riguarda una quantità importante di persone, ma stiamo parlando di cittadini che magari già oggi sono in pensione, così come stiamo parlando di tutti gli altri cittadini che hanno un'aspettativa. E quindi io credo che bisogna essere molto misurati per non provocare allarmi ingiustificati e né aspettative ingiustificate. Perché avere un quadro di certezza rispetto al proprio futuro è una delle condizioni che rende la società più coesa, più in grado di prendere delle decisioni rispetto al proprio futuro. In questo senso io credo che vada comunque sottolineato un dato che oggi a livello previdenziale il lavoro che è stato avviato da IMSS rispetto alla cosiddetta busta arancione, comunque in termini generali rispetto al fatto che ogni cittadino sia messo nella condizione di poter valutare con, come posso dire, gli elementi di certezza e di cautela che vanno usati perché in questo caso stiamo parlando di cittadini che possono fare proiezioni molto avanti nel tempo e quindi l'esito è largamente influenzato da dinamiche che sappiamo essere appunto quelle legate al PIL. Quindi le variabili sono variabili che oggi vengono utilizzate in quello schema rispetto a quelle che sono le previsioni costruite all'interno della contabilità pubblica da un lato e dei grandi organismi internazionali di previsione, quindi che cosa capiterà nel tempo è certamente un elemento importante, ma io credo che sia sicuramente un bene che ognuno sia in grado di farsi un'opinione, una valutazione, perché una buona conoscenza dal punto di vista previdenziale, credo sia un elemento di trasparenza da un lato e di libertà dall'altro, perché consente a ogni cittadino di farsi un'opinione, una valutazione. È un'esperienza non semplice.